Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere come settare la mitragliatrice leggera RPK come long range e direi di cominciare. Come volata andremo a mettere la Polarfire S. Come ottica andremo a mettere VLK 4.0. Come calcio andremo a mettere il primo, quello di supporto pesante. Come sottocanna andremo a mettere il pineapple. E come impugnatura andremo a mettere la seconda, l'impugnatura demo per 2. O x2. Questo è il settaggio dell'RPK come long range per Warzone 2.0. Spero vi piaccia, se sì mi raccomando lasciate un like, iscrivetevi al canale. E in descrizione lascerò il link con la playlist e con tutti i vari settaggi delle nuove armi di MV2. Grazie a tutti e alla prossima.